bentornati bentornati sul sul canale genoa juventus 1 a 1 questo il il finale a ferraris una volta si chiamava marassi nel famigerato anticipo del del venerdì ormai una un'abitue una consuetudine per la juventus e tutti già pregustavano no dal lato juve ma forse non solo il l'ennesimo sorpasso in attesa poi del controsorpasso inter che in questo caso come in precedenza a napoli sarebbe stato comunque molto complicato sulla carta e invece niente invece niente perché la juve viene bloccata da un genoa gagliardo che fa fede alla propria storia al proprio dna come amano dire quelli delle essenze e delle anime un genoa che non ha rubato nulla un genoa che non ha rubato nulla nonostante già sia partita la macchina del c'era il rigore c'era l'espulsione e qui posso tagliar corto il rigore ne abbiamo visti di sul 1 a 1 se non ricordo male ne abbiamo visti dare di di più di più di di meno fallosi diciamo così effettivamente la palla tocca prima sulla coscia di bani che cerca di intervenire su un cross e poi picchia sull'avambraccio che cosa volete che vi dica si poteva dare quel rigore si ripetono vi si dare ben peggiori come appunto in un lazio inter di tre anni fa la prima sconfitta di inzaghi in campionato sulla panchina dell'inter per me questi non sono mai falli vanno calcolati alla stregua del braccio che tocca e poggia sul terreno cioè non c'è non c'è grande differenza non è un braccio alto no oppure sopra la spalla come appunto la direttiva e non è nemmeno un braccio eccessivamente largo è un braccio largo ma congruo al movimento perché se tu alzi un ginocchio va da sé a parte difensori dell'inter che in quello sono maestri tutti giocano con le braccia a dire la schiena e infatti poi spesso soffrono la finta e controfinta perché senza braccia vai da una parte e dall'altra e è da considerare sono ne congruo gli picchia prima sulla coscia e poi sull'avambraccio e poi finisce tra le e poi viene smanacciato dal portiere cioè alla fine il cross sarebbe finito comunque lì quindi per come la vedo io ma adesso è Genoa Juve ma poteva essere pure Genoa Inter poteva essere pure Milan-Roma questi non sono mai falli nel calcio e l'espulsione c'era al novantesimo invece l'espulsione l'espulsione c'era sicuramente fallo fallo brutto di di Malinowski e eravamo forse anche oltre il novantesimo non ricordo sicuramente proprio nel finale di gara e lì massa veramente non massa ma anche ma anche l'arbitro al VAR adesso mi sfugge il nome insomma hanno 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 sbagliato in maniera palese hanno sbagliato in maniera palese e detto questo ripeto Genoa non ha non ha rubato nulla Genoa non ha rubato nulla è stato un una prestazione in cui il grifone ci ha messo tutto quello che poteva metterci soprattutto a livello offensivo perché con la defezione di di retegui al proprio diciamo in realtà già si loro già lo sapevano perché si è fatto male col Monza quindi dovrebbe saltare pure la prossima quindi un problema non da poco era partito molto prudente la Juventus ha aggredito in maniera più convinta nel primo tempo e si è lasciata preferire senza strafare ma la Juventus si è lasciata sicuramente preferire al Genoa subito il cambio a inizio ripresa tolto un difensore messo un attaccante proprio Ecuban entrato ha fatto l'assist per Gudmund insomma e poi il Genoa è cresciuto nel secondo tempo a parte nell'ultimissima fase in cui la Juve ha provato l'assedio alla Monza al Monza Style e poteva anche riuscire ancora una volta il colpo di coda al 95esimo quello che è ma non riesce sempre è quello che io vi ho sempre detto se tu stai sempre sul filo magari puoi battere il Napoli come puoi pareggiare col Genoa che a dispetto dei punti in classifica se non è una squadra comunque organizzata quadrata manca qualcosa gli è mancato per diverso tempo retegui continua a mancare e quindi è chiaro che c'è un un problema da questo punto di vista è un pareggio sicuramente che va bene all'Inter è evidente va bene all'Inter perché tempo qui ci sabotano ascoltato qualcosa va bene all'Inter perché chiaramente resta comunque con un punto davanti al di là di come poi devo debba andare con 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 la Lazio perché anche qui devo ripetermi si è spesso fatto si è sfatta polemica no sul calendario sulla eventosa che giocava prima in anticipo sempre di venerdì e quindi mette pressione e non più tardi di due tre video fa vi avevo detto proprio questo per me sono volate perché dal momento in cui la juventus vince ti mette pressione ma può essere anche uno stimolo che magari potevi affrontare quella partita sotto gamba invece con lo stimolo juve che vince allora sei portato a ucciderla subito non sportivamente parlando dall'altra cosa la juve perde punti dove è più rilassato ed è sicuramente un bene quello di andare più rilassato adesso a roma a giocare con la Lazio magari la juve vince tu vai con la cazzimma vinci e sei più due la juve pareggia come è successo tu vai più rilassato perché andrò in testa le prendi e perdi un punto quindi la cosa del calendario l'avevo detto in tempi non sospetti dopo che la juve aveva vinto e l'inter era stata costretta a rincorrere non è che lo dico oggi mettendo le mani avanti basta andare a recuperare i miei video l'ho sempre volata come cavolata come alibi come solita storiella di quelli che il calendario ecco adesso ho risentito sta cosa è il calendario calendario ormai siamo il 2023 sono anni che è sfalzato che c'è lo spezzatino quindi anche basta mi fa piacere che questo pareggio chiaramente da interista mi fa piacere che questo pareggio arriva proprio nel giorno in cui ausilio rimarca poche ore prima della partita della juventus l'attitudine dell'inter e l'attitudine di altre che poi altre in realtà sono la juve perché pioli fino a fino a ancora oggi dice che noi giochiamo per lo scudetto perché siamo il milano onore a lui anche se secondo me non ha mai avuto la squadra per vincere lo scudetto sicuramente è cresciuta la squadra quest'anno è molto più completa poi c'è gli infortuni ok ma non è mai stata la scuola migliore anche l'annogamento lo scudetto l'è stata di fatto quindi scudetto meritatissimo anche per il suicidio dell'inter nell'ultima parte ma molto relativo sempre con me della juve perché la juve in tutti questi c'ha sempre avuto la squadra per vincere e ci metto dentro pure il napoli e quest'anno napoli e juve non potevano nascondersi e il napoli non mi sembra si sia nascosto anzi c'è grande delusione per il fatto di essere usciti dalla lotta a scudetto che poi è ancora lunghissima quindi non si può mai dire la juve è inutile questo è un giochino inutile e ausilio l'ha bollato per quello che è pavidità noi non è che siamo i favoriti ma non ci nascondiamo e per le qualità che abbiamo diciamo che puntiamo allo scudetto altri si nascondono perché milan e juve e napoli sono partite per come noi non per arrivare quarti pane al pane vino al vino e subito tranchete è arrivato il pareggio della juve che proprio allegri ieri continuava a parlare in conferenza stampa dell'inter 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 magari è ora che si concentri più a non giocare sempre sul filo 1 a 0 0 a 1 1 a 2 2 a 1 calcio d'angolo mischia finale 96esimo 97esimo 101esimo la storia no il famoso non può piovere per sempre è quello è un saluto grazie a tutti